Prima visita ufficiale del neo-manager della ASL di Pescara Vincenzo Ciamponi presso il presidio ospedaliero San Massimo di Penne, dove ha incontrato una delegazione di operatori sanitari e amministratori locali, tra cui il sindaco Mario Semproni e l'assessore comunale con delega alla sanità Pinatulli. Ad accompagnare Ciamponi in questa prima visita a Penne l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verri e il direttore del dipartimento sanità Claudio Damario. L'obiettivo della regione Abruzzo, ormai dichiarato più volte negli ultimi mesi, soprattutto quelli post-covid, è quello di rilanciare in maniera definitiva il presidio ospedaliero Vestino, partendo dalla riqualificazione dell'immobile in via Battaglioni Alpini, dove a breve sarà approvato il progetto definitivo, per poi passare alla gara d'appalto finanziato con 12 milioni di euro e nello stesso tempo favorire l'assunzione di nuovo personale vista la forte carenza di medici. La svolta cruciale per il San Massimo però arriverà dopo la validazione da parte del tavolo di monitoraggio nazionale del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, per cui è attesa la nomina ad ospedale con sede di pronto soccorso H24, garantendo così un ruolo strategico all'interno della stessa ASL di Pescara. Abbiamo attivato le procedure per assumere i medici e nominato il nuovo direttore sanitario di presidio, ha dichiarato Nicoletta Verri. Vogliamo che Penne abbia un ruolo strategico nella rete sanitaria regionale, con alcune eccellenze già riconosciute come gastroenterologia. Inoltre, ha aggiunto, a breve partiranno i lavori di ristrutturazione del reparto di dialisi. Dunque, sembra essere stato positivo il primo impatto di Vincenzo Ciamponi a Penne, il quale ha già annunciato la volontà di rincontrarsi per continuare a risolvere le problematiche che attanagliano il San Massimo. Intanto, dopo il ripristino degli interventi presso il reparto di ortopedia e traumatologia a cura del dottor Palmieri, buone notizie arrivano dall'unità semplice dipartimentale di Otorino-Laringoiatria, dove dal 2019 opera il dottor Francesco Berni, che resterà operativa a pieno ritmo anche durante le vacanze estive, quando per la fine di luglio si conteranno oltre 100 interventi chirurgici eseguiti, nonostante il blocco delle sale operatorie per tre mesi causa Covid-19. Tutto ciò sta a significare che dal momento della riapertura si è recuperato molto sulle liste d'attesa della parte interventistica, come per le viste specialistiche.